Il networking nel contesto contemporaneo è importante per lo sviluppo del fatturato delle aziende. Se ne è parlato in un importante convegno organizzato da H2Biz all'Hotel Gallia a Milano. H2Biz con oltre 650.000 imprese iscritte è una realtà punto di riferimento per le organizzazioni professionali in Italia. Da pochi mesi ha preso vita anche il Club Biz, un club esclusivo di altissimo profilo, creato proprio da H2Biz con obiettivi ambiziosi che è stato protagonista dell'evento dove erano presenti solo su invito. Decine di manager e professionisti che ne hanno discorso gli obiettivi e i successi già ottenuti in pochi mesi. Annunciato inoltre l'importante accordo siglato con un gruppo di banche internazionali guidate dal Credit Suisse di Ginevra per offrire servizi finanziari a condizioni agevolate alle aziende italiane iscritte alla piattaforma. Il noto sondaggista Renato Mennheimer presente all'evento ha confermato l'importanza del fenomeno networking e delle opportunità che può creare per le aziende italiane in questo momento storico. Io ho tratto la consapevolezza della vivacità delle imprese italiane. Anche quelle medie, quelle piccole vogliono associarsi per aumentare il lavoro, vogliono fare networking. Quello che è venuto fuori è la storia di tante imprese, ognuna con la sua idea innovativa che mostra la vitalità del nostro paese e l'importanza di aiutare il tessuto delle imprese del nostro paese. L'evento si è chiuso con un aperitivo nel segno della condivisione di obiettivi e di strategie comuni per dare una concreta possibilità di crescita alle aziende italiane.